Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Sta finendo la partita tra Albino Leffe e Juventus, premetto che non ho visto il primo tempo, mi sono recuperata i due gol, però nel primo tempo ho guardato le ragazze, mentre nel secondo tempo ho guardato più l'Under 23, tenendo sempre un occhio sulla partita delle ragazze. Allora, per quello che ho visto nel secondo tempo, l'Albino Leffe non si è reso mai realmente pericoloso, c'è stato qualche cross velenoso, ma Juve che era molto più pericolosa. Ho notato che abbiamo giocato più sulla sinistra, nel senso che l'azione non si sviluppava quasi mai nella fascia destra, sempre o al centro o a sinistra, e mi dispiace perché volevo vedere un po' di più a che, non l'ho visto tanto appunto nel secondo tempo. Comunque la Juve va in vantaggio già nel primo tempo con Correia, che lì diciamo gol un po', nel senso era più un cross, però praticamente l'azione nasce da Dragusin che va in avanti, Prienti con il petto fa una specie di sponda o di testa, non mi ricordo neanche più, e Correia mette in mezzo da dietro sto cross che i difensori non prendono, Allora, un difensore dell'Albino Leffe non lo prende, l'altro preso alla sprovvista perché quell'altro non l'ha preso, la sfiora, la devia di quel poco che basta per farla tipo, per dare una direzione più alta al pallone. Il portiere la vede sbucare all'ultimo minuto, sì che non può pararla, quindi da cross diventa gol di Correia. Il secondo gol arriva invece è stato fantastico perché da calcio d'angolo, battuto da Ranocchia, c'è un po' un miscuglio, poi Marquez fa la sponda di petto per Dragusin che calcia al volo di interno, piede, in sacca in porta. Poi nel secondo tempo arriva anche lo 0 a 3, di stavolta, aspettate, è Ranocchia, Ranocchia che praticamente, allora Correia, finta il cross ma invece fa un passaggio filtrante per Ranocchia, Ranocchia prova a tirare da fuori, il portiere spapera, c'è proprio saponetta, la prende ma finisce lo stesso in rete, e quindi 3 a 0, poi c'è stato anche un gol annullato a Brighenti per fuorigioco, però vabbè. Abbiamo vinto 3 a 0, saliamo in classifica e nulla. Tra l'altro questo è il primo scontro che abbiamo vinto con l'Albinolef perché ci sono stati 3 pareggi e adesso finalmente una vittoria. E nulla, sono contenta, adesso vado perché devo fare anche il post partita delle ragazze che devono ancora finire di giocare. E nulla, sempre fino alla fine forza Juventus Under 23, noi ci vediamo fra poco con il post partita delle ragazze che le ho viste un po' di più. Ciao ragazzi!